Ho accettato con grande piacere l'invito che mi ha fatto Giuseppe Conte di interessarmi dell'attività iniziale della scuola di formazione dei 5 Stelle, un'attività che voleva essere proprio un avvio, un incipit e ho pensato all'idea di fondo della politica oggigiorno, siamo in una fase di profonda crisi non solo della politica ma dei singoli partiti, pensate che l'elettorato praticamente ormai è quasi dimezzato, allora l'idea è stata questa, analizzare la politica da vari angoli di visuale, da vari angoli di discipline, cioè l'economia e la politica, l'arte e la politica, la cultura e la politica, l'Europa e la politica, l'ecologia e la politica, i beni comuni e la politica. Bene, ognuno di questi aspetti può dare le sue critiche che sono naturalmente ponderate e può fare le sue proposte. Per fare questo tecnicamente abbiamo pensato di invitare per ognuno dei temi due esperti di prestigiosa proprio conoscenza, di sicura attitudine a esprimere in modo chiaro e in modo completo, esaustivo il proprio parere. Non c'è dibattito tra i due, c'è soltanto un sommarsi delle rispettive opinioni. Dopo poi ne avremo tutto il tempo per fare domande da parte del pubblico e avere risposte da parte degli esperti. E' un rito molto semplice praticamente, però che può essere molto utile perché si tratta di mettere a disposizione dei cittadini una riflessione molto articolata su un problema che ci sta a cuore perché ne va la vita nostra, dei nostri eredi, ne va la vita della polis, cioè la vita della cosa più nobile che possa fare l'uomo, la politica. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo. Grazie. Grazie. Grazie.